In questo video ti spiego una cosa davvero importante che riguarda il lasciare andare le situazioni. Cosa significa? Perché è importante? Come si può fare? Quali sono le conseguenze del non lasciare andare una situazione? Quando parlo di situazioni molto spesso mi riferisco a questioni di relazione, quindi relazioni intime con partner, ma lo stesso vale sul lavoro, in amicizia. La stessa cosa vale per i rapporti familiari. Lasciare andare una situazione. Che cosa significa? Lo spiegherò rapidamente in ciascun contesto. Innanzitutto, che cosa vuol dire lasciare andare? Molte persone credono che lasciare andare significhi odiare, avercela, essere animati da emozioni negative. In realtà non è vero. Lasciare andare significa semplicemente che purtroppo in questo momento della nostra vita noi non ci incontriamo più. E quindi tu devi andare avanti per compiere il tuo destino e io andrò avanti per compiere il mio destino. Se non posso volerti bene da vicino, ti vorrò bene da lontano. Una cosa che dico sempre io è che quando non andiamo d'accordo con qualcuno, dobbiamo augurargli di realizzarsi nella vita. Un augurio che faccio sempre. Per quale motivo? Perché una persona che veramente si realizza non ha bisogno di odiare nessuno. Una persona che veramente si realizza è una persona più empatica, più altruista, più gentile. È una persona che è disposta ad ammettere più facilmente i propri errori e ad apprendere dalle situazioni che incontra. Quindi realizzarsi significa diventare una persona migliore, abbandonare i rancori, abbandonare l'orgoglio inutile, abbandonare la rabbia, abbandonare le rivincite. L'unica rivincita è quella che puoi avere con te stesso. L'unica rivalsa è quella che puoi avere con il te stesso di allora, che non era in grado di farcela. Lasciare andare significa percorrere la propria strada serenamente, senza avere accredini, livore, senza essere animato da brutte emozioni negative che ti appesantiscono, appesantiscono il tuo viaggio. Lasciare andare quindi in realtà è un gesto d'amore, verso noi stessi e verso l'altro. Se tu non sei disposto a lasciare andare una situazione, ci sono tutta una serie di cose che purtroppo ti condizioneranno e ti limiteranno. Cerchiamo di guardare i rapporti di amicizia, di lavoro e tra partner. Se non sei disposto a lasciare andare una situazione, quello che succederà molto semplicemente è che tutto quello che farai sarà una forma di adattamento alla situazione che stai vivendo. È inutile pensare di poter raggiungere un livello superiore nel momento in cui non sei disposto a raggiungerlo da solo. Per il semplice fatto che se io non sono disposto a lasciare andare un partner con cui non mi trovo bene, un'amicizia che non funziona più, un lavoro nel quale sono insoddisfatto, la verità è che tutto ciò che farò sarà adattarmi per ingoiare qualcosa che non mi piace, dei bocconi amari che comunque mi appesantiranno. Quindi, se non sei disposto a lasciare andare tutto il lavoro che puoi fare di crescita personale, lavoro psicologico personale, tutto quello che nel coaching viene chiamato inner game, il gioco interiore, cioè il miglioramento personale delle proprie convinzioni, valori, credenze, del proprio mindset, del proprio atteggiamento mentale, sarà viziato dal fatto che tu quella cosa non la puoi abbandonare, ci sarà sempre un legame che ti tiene, ti terrà sempre qui. E col tempo, quando comincerai a salire, salire di livello, cerca di capirmi, non intendo dire che diventerai superiore, ma che ti stai evolvendo, ecco, questa cosa comincerà a diventare una zavorra. E la persona che sta lì dentro, che rappresenta questa zavorra, o le persone che rappresentano quella zavorra, diventeranno oggetto di giudizio da parte tua, di emozioni negative da parte tua. E queste emozioni, questi giudizi appesantiranno te e ti impediranno di salire serenamente, di raggiungere veramente la tua realizzazione personale. Se non sai lasciare andare un figlio, allora non sei in grado di essere da esempio per quella persona, perché prima o poi arriverà il momento in cui farà delle scelte, farà degli errori, sceglierà se stesso la sua vita, ed è bene che questo succeda, e se tu non sei disposto a lasciarlo andare o a lasciare andare tua figlia, quello che succederà è che questa persona non avrà avuto l'esempio di chi ad un certo punto mette da parte se stesso per lasciare spazio. Lasciare anche lo spazio libero di sbagliare e di fare quelle esperienze che trasformeranno quella persona nella persona che è destinata ad essere, cioè vivere la sua vita. E quindi anche tuo figlio, tua figlia, avranno l'atteggiamento di chi non sa lasciare andare e dovranno armarsi di accredini, di livori, di risentimento, per poter spezzare quel legame che non hanno avuto modo di spezzare serenamente perché non gli è stato insegnato. Il fatto è che se tu vuoi davvero fare il tuo percorso di vita personale e lasciare che gli altri facciano, compiano il loro percorso, devi imparare a lasciar andare. E questo è un lavoro che devi fare dentro di te, non è un lavoro che puoi insegnare all'altro se non con il tuo esempio, senza nutrire l'aspettativa che le persone lo approvino, senza nutrire l'aspettativa che le persone applaudiscano, senza l'aspettativa che le persone siano felici di questo, perché se tu ti guardi intorno e lo fai con uno sguardo sereno e obiettivo, o quantomeno il più obiettivo possibile, per quanto è possibile essere obiettivi dal nostro punto di vista, quello che noterai è che la maggior parte delle persone tende a creare dei legami che poi non vuole più abbandonare, perché questi legami sono fatti di emotività, di sentimenti, sono legami a cui noi teniamo, anche quando sono connotati da esperienze emotive negative. e l'incapacità di lasciarli andare rischia di trasformarli in un peso, rischia di impedire che ci sia un domani un nuovo reincontro. Lascia un commento nel video, fammi sapere cosa ne pensi.